Sono stati avviati in questi giorni i lavori di sistemazione idraulico-forestale del fiume Arno nel tratto casentinese che è di competenza del Consorzio Bonifica 2 Alto Val d'Arno, su delega regionale, che interesseranno i comuni di Castelfo Cognano, Subbiano, Capolona, Arezzo per un importo di oltre 195 mila euro, lavori che sono stati affidati all'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Questo è un primo intervento che facciamo sull'Arno in sinergia con l'Unione dei Comuni del Casentino e poi successivamente andremo più avanti perché il nostro progetto è quello di risistemare tutto l'Arno fino a Figline. Abbiamo dato il nostro contributo che proviene dai consorziati del Casentino e il nostro 30%, il resto il 70% è a carico dell'Unione dei Comuni e quindi della regione. Diciamo che questa situazione ci preoccupava, si rischiava veramente di mettere in crisi una parte di territorio importante. Io credo che questo ci siamo arrivati grazie all'impegno e alla buona volontà di tutti e oggi i fatti dimostrano che magari quelle perplessità o quei dubbi che i cittadini avevano che non si arrivasse ad aprire questo cantiere invece come si sta vedendo siamo sul cantiere. Questo intervento consiste nel taglio della vegetazione presente sia in alveo che sulle sponde un intervento di manutenzione straordinaria in quanto sono passati molti anni dagli interventi precedenti e questo si va ad inserire nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica e di difesa del suolo che svolge l'Unione dei Comuni. Se uno guarda quello che si è fatto e quello che ci sarà da fare si vede una bella differenza.